NOS FRATES GRUMO CABRE 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 CABRE NOS FRATES GRUMO CABRE NOS FRATES GRUMO CABRE NOS FRATES GRUMO CABRE NOS FRATES GRUMO NOS FRATES GRUMO NOS FRATES GRUMO CABRE FRATES GRUMO CABRE CON GRAMO CABRE NOS FRATES GRUMO CABRE DELLA CHIESA GIÀ E' STATO FIDATO CONSIGNIERO I TACTO E DEPOSITO DELLA FEDE CHE TRASMITTERÐ E LILUSTRERÀ EDITANDO QUALSIASI DOTTIA ad esso contratti. Favorirò la disciplina comune a tutta la Chiesa e con ogni scrupolo pulerò l'osservanza delle leggi eccesiastiche in primo luogo di quelle contenute nel codice di diritto canonico. Con cristiana ambedienza accoglierò quanto i sogni pontifici proclamano in qualità gli autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono in qualità i capi della Chiesa e insieme con i vescovi e cesani presterò il mio contributo costante perché l'azione apostolica da esercitare in nome e per mandato della Chiesa venga svolta in comunione con la Chiesa medesima, pur nella fedeltà alla natura e alla finalità del mio ordine. Così mi aiuti il Signore e i Suoi Vangeli Santi che ora tocco con le mie mani.